Mi piace perché da tante materie prime arriviamo ad avere un prodotto finito che diciamo che è quasi un'arte. La so fare bene perché è proprio nel mio DNA, quindi appena vedo qualcosa che non va, è una cosa che viene subito così all'occhio. Non ci sono tempistiche stabilite, questo è un po' la sensibilità dell'operatrice che riesce a fare questa attività. Se si parte con una procedura sbagliata iniziando male non arriviamo ad ottenere l'effetto che vogliamo. Può essere una pallina troppo fragile, troppo dura, non scrivente e quindi queste sono le fasi. Il nostro segreto sono un po' le nostre operatrici che lo fanno con passione. Si fa d'occhio perché non stiamo parlando di vernici innanzitutto, stiamo parlando di prodotti che sono vivi. Non li chiamiamo prodotti vivi, i nostri prodotti. Hanno bisogno di avere anche loro le sfumature, non possiamo comparare una cosa con il computer. Perderemo tutta l'artigianalità e tutto il bello di questo prodotto. Quindi dobbiamo mettere insieme queste cose che il computer non fa assolutamente. Perderemo tutta l'artigianalità e tutto il computer non fa assolutamente. Grazie a tutti.